Ciao a tutti, sono Federico Doria. Allora, io dovrei essere un cantatore, anche se questa definizione, forse perché è troppo legata, un'immagine vecchia che non riesce a rinnovarsi culturalmente, quindi forse per questo non amo questo termine, anche se poi definisce bene quello che faccio, cioè la situazione di scrivere canzoni, sia nel mio caso sia i testi della musica. Spesso mi capita che mi chiedono, sì, ma che musica fai? Che cosa ti avvicina? Che cosa può essere? Sì, ma a te cosa può dare un'idea? Quello è un po' un problema definirlo, perché poi c'è sempre un discorso di sintesi personale, di modo di fare, di pensare, che ti porta questa elaborazione. Io sono proprio cresciuto, ovviamente, con mio padre, di storia siciliana, proprio per passione, quindi sono cresciuto in un ambiente che mi ha proprio familiare, proprio per mio padre, che mi ha stimolato in questo senso, mi ha stimolato nel non perdere l'identità come proprio radice della personalità, nel senso non farsi mancare la terra sotto i piedi. C'era una volta, non mi aguantano, e adesso non c'è più, la grande voglio fare la ballena, mi ballo per te. E so che sarà lungo un percorso quasi mistico, si chiama il cammino degli angeli, insomma, tra Arezzo e Firenze, comunque in vari paesi, ci saranno vari parchi. Niente, io, vabbè, in realtà, ormai il fatto di andare a suonare, quando ero più piccolo magari l'avevo con più ansia, perché magari potevo diventare una rockstar, no? A fare invece l'avevo molto più tranquillamente, perché ho forse ridimensionato le mie aspettative, oppure più che ridimensionato le mie aspettative, l'avevo proprio diversamente. Ciao a tutti, vi ringrazio dell'attenzione e spero per chi è di Palermo che avrebbe visto questa sera qua al Polazio.